Sì ma i punti persi che ti ridanno in questo momento della season sono 8 Cioè capisci pure tu che se perdi per un shitter adesso ti ridanno indietro 8 punti Cioè che cosa te ne fai di 8 punti se ne vinci un centinaio a win? Nulla Cioè perdi solo tempo praticamente Ma non ci sono altre opzioni Ah sepp io penso che questa sia una grande cazzata invece che è una cosa seria Cioè io ho paura ragazzi che con questa bella low streak io perdo un bel po' di MMR Potrei prendere un bel po' potrei perdere un bel po' di MMR ragazzi con questa bruttissima low streak Cioè io cazzo che palle ragazzi cioè con tre vittorie arrivavo già a Smeraldo Con tre vittorie e bastano letteralmente tre win e siamo riusciti a fare quattro low di fila In un'ora Spero di non morire Non ci avete un filo spinato in scale? Ho messo il bibo bip Bibo bip C'hanno brava Vedi pesce ho fatto bene non ho fatto l'antica Oh grazie Interrogo Almeno un breach Non avevo questo Però sta veramente far away Eh Far away far away Sound muted Veramente Jackal ha preso le mie impronte Di tutti quelli che c'erano Terribile C'è Jackal che sta sotto scale rosso Che ha spaccato il casto E' Jackal dalle scale Dalle scale di magazzino Sotto hanno briciato e C'è stava brava C'hanno un drone su catwalk Ok ma anche però brava lì fuori Divertimento Ma è dentro Pesce ho pesce ho pesce ho pesce ho Non è dentro tu Piedati di me E' dentro Non muore ragazzi No perché altro Nel caso moriva Gianco E aveva perso comunque La prima volta Gianco l'ha hitato Ma non è morto La seconda non l'hai presa ed è morto La mia visuale o c'era tutto nel mirino in realtà E non è morto ragazzi E mi piace se lo prendi dentro il culo bianco La sua domanda non ha senso Non ha veramente senso Che domanda è ma perché giochi da pc Perché dal frigorifero samsung non c'è ancora rainbow six Non gliel'hai detto Che è entrato l'altro giorno Un bombardamento napalm E ha preso solo la playstation E' una tragedia ti giuro Fanno cacare eh marzo adesso Cioè sono esplose eh No no la sua proprio C'è la casa intatta Lui benissimo Nessun problema in famiglia così Però ha preso solo la playstation Una tragedia ragazzi Non ha avuto veramente senso Io ho cercato di spingere mia nonna sulla play Però l'ha bruciata tutta No no ma eri cosciente No non stava sparando a te Stava sparando a finestra Non visto Mi auguro Perché mi è arrivato il colpo Ah io non contro Non così Non lo sai Riccia Oh il figlio di puttana ragazzi Vedibile quel pezzo di merda Intanto qualcuno in CCTV ragazzi Ma dove è andata questa puttana? Non ho un nome Il garage Gigi Stava rompendo il filo Da blu? Beh uno in In blu mi sa O è blu nomad O è garage Non ne sono sicuro Io credo sia uno cucina Io su memoria Ma non ho dronato Dov'è? Va fuori dalla finestra No regà Dai Ma mi ha fatto il drop shot Regà C'è uno blu eh Dove 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 è Marzo? Eh fuori kitchen Tu guarda in blu Fa Ma ha segnalato Uno così Conci Così 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 Tutto questo Culo Questo me leva Il coperina Lotto Me leva E uno in blu Regà Eh sì Ultimo attaccante Rimasto in vita Ecco entra 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 Entrato Dalla porta Potreste anche morire Ma è Sostavo No ma questo Non l'ho riportato Perché città Questo l'ho riportato Perché ragazzi Uno con così tanto culo Deve essere Bannato Comunque cercato Di allontanare Dalla società Perché questi Sono quelli Che ti vincono I gratte vinci Che ti vincono Le schedine Che ti vincono I superenalotto E non vuoi avere Più chance Di vincerlo tu E sono quelli Che rendono I bambini In Africa Poveri Questi sono quelli Con troppo culo Che nella vita Gli ha detto Tutto troppo bene Allora Per dare chance A tutti Si ha fatto Tutto il bocchero Già Vabbè ragazzi Da parcheggio Ad impire Ok Hanno fatto Un castle In 28 anni Oggi Due errori Pazzesco Pazzesco Ho piazzato Il dispositivo Il dispositivo Alcimato Vai Riprovaci Con sta mp Coglione Cambio caricatore Guardate che puttana Quella ragazzi Mi si vogliono droppare Della botola qua Interrogo Cambio caricatore Ho la loro posizione Infatti Giusto Ok Ace Scemo Mamma mia Quanto cazzo Vi carri I round Comunque Cioè Non c'ha senso Stanno su Con la botola Ma non vengo Magari Rifaccio il giro Da dopo Da fuori Devi usare da me Sotto botola Nice Preciso Cioè Guardate Contro che stiamo giocando Se non vinciamo 4 a 0 Con questi Io non lo so E' veramente I babbei Non hanno fatto La cam La cam Di pistola Come se qualcuno Avesse provato A spararti Questo è un pezzo Da merda Sei eh No regà Non facciamo 4 a 0 Ve prego Buttatele No no Dobbiamo farlo No di nuovo Già Di nuovo Di nuovo Non me la collo In altre due partite Ingiocabili Dobbiamo farlo maestro E' essenziale Ok dai Proviamoci Non lo facciamo I cani per Nella disenteria E fammela E dipende Dove vanno Se vanno sopra Fai la vipera Questi Questi P3 Sono sopra Va bene Farò la vipera Ragazzi It's time Junkie Docca Ebi O lion Oh scegli tu Ho piacere Hanno rotto un qualcosa Ragazzi Viene Entra da qua Eh appunto Porco Ma la ro- C'è Posso creare Ragazzi Avevo Ha rotto in quel momento La ro- Ah ma insomma Li stavi sparando A carica Eh quello Ci avevo messo Niente Deciso di fare La spawn kill Questo subumano Comunque doc Secondo me Due linee rosse Le vede Sotto scale red C'è uno Non dire Non dire Stato strano Da dire Ne era uno Qui sotto Ma Ah Caveira Passa attraverso Le clay Ma l'ho capito Te l'ho pure messa Infame Te l'ho messa Pure da pezzo De merda Io La naturalezza Te tolgo le granate Me ne tolgono Tocca 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 che non vai a vivere Vicino alla munation Festi stinti Non dirmi che si stanno potenziando Queste Adesso Ok In certi round La saturazione del gioco Decide di cambiare Sono come le scale Derry Potter Ma si Che cazzo Me ne prende a mirare Sono cave Adesso C'è dronate bene Fate botola Cucina C4 ce ne hanno uno solo Però questo è uscito Ma perché cave qui Porco Gesù Cristo C'era proprio un drone E' sceso La ping C'è Tu che cazzo Ne sai Vabbè C'era qualcuno La gente Ha sempre tutto No no Questi bo Lo svegliate tutti In un botto Non viene scappantone Uno dei tre cubi Ci sono due Nel site di junk Oh mio dio ragazzi Facciamo spawn kill là La vera è morte Eh io Scusatemi ma non conoscevo Quello spawn kill 3 Ping 3 c'è Aruni Mi sta spostando Stanno ad un altro site Doc sta in garage Stanno in garage Sta arrivando la porta qui Marzò Bravo Ok Non c'è nessuno lì E' Aruni Sta sempre ping 3 Bravissimo Ok Tanti i Capcom Ok i Capcom Vieni perciò Giocare con Giacco Giocare con Giacco Io ho un C4 E muoio raga Eh piaccato c'è un laser gate No questo non è un problema Posso tirare una stunna sul caso Ah vabbè guarda Ricarico Vabbè Cappella Non lo so Penso di sì Ah no regà Eh no Eh nell'altro site Eh dentro c'è il ciocchio Non so dove Ah aspetta perciò Guarda bene i Capcom Esatto Non so te Guarda una scansione Guarda una scansione Lo sento fuori da sto site Di cerce C'è C'è una cam su Scala e main Non so dove è Dove è Da ieri da blu Stas da attrezzi Ci sta avendo la porta Da ping 3 Eh raga c'è il laser gate Qui Non lo c'è Non lo c'è Vai via da qua Ah c'è Per C4 St'ha trollato Ok Mamma mia Bravo junkie Vabbè ragazzi Se veramente perde da questo Era ridicolo Non abbiamo perso infatti Già nel C Boh E guardami puttana Posso dire una cosa Se tirava il C4 in terra Mi uccideva E lui andava a terra E si rialzava con Rook Vinceva No in realtà Sì Poteva succedere No dico Quando l'hai scaraventato via Si salvava pure Era quella la cosa Sì 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 Poteva vincere Poteva vincere costui Una mossa suicida No 97 punti Ho finito di giocare 80 Ottimo Ho finito di giocare Dobbiamo per forza di cose Investire in puttani ragazzi No facciamo il telewin Che non abbiamo fatto prima Junkie tranquilli No dobbiamo investire in puttana Adesso? Sì GG Get gangro Ciao 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 Ciao